ciao a tutti oggi stiamo attivando codici temi illimitati per 15 mesi potete farlo anche da remoto mi contattate pagate 20 euro e vi invierò il codice per avere queste funzioni l'importante è avere l'app tema andiamo a premere l'app tema andiamo qui su download e poi andiamo ad inserire il codice una volta che andiamo a inserire il codice determiniamo dopodiché possiamo andare su i temi illimitati eccoli qua e ad esempio abbiamo tutti questi temi desideriamo avere questo tema facciamo scarica e il tema è pronto per essere usato lo mette nella home e poi lo salverà direttamente nell'hard disk adesso andiamo a mettere un altro addirittura è più recenti cosa possiamo fare possiamo scegliere uno di questi temi per dire lo scarichiamo dopodiché qui possiamo andare a inserire una foto che desiderate può essere una foto vostra di vostri figli insomma quello che volete potete mettere un logo tutto quanto e l'avrete sempre a disposizione qui e poi avremo tutte le funzioni digitali e cose varie quindi al costo di 20 euro vi offriamo questa possibilità temi illimitati per 15 mesi l'offerta è eccezionale vi faccio vedere tutti i temi per gli amanti di zombie andiamo a scaricare il tema zombie e quando andremo in movimento avremo tutta una serie di effetti gli zombie che verranno e cercheranno di entrare nella macchina ma noi andremo a cannone li faremo a pezzi questa apple carplay android auto ri andiamo a vedere gli altri temi molto molto belli ricordiamo al costo di 20 euro validi per 15 mesi quindi che fate voi anche se sono scaduti 15 mesi dopo voi li avete scaricati nel vostro disc quindi rimarranno a voi guardate che bello quindi ricordate 20 euro per 15 mesi voi farete tutti i download dei temi che vi interessano anche perché i prodotti che vendiamo sono 128 giga di rom potete scaricare tutti i temi che volete una volta che è scaduta la promozione dei 20 euro per 15 mesi i temi rimarranno a voi ovviamente non potrete più accedere a quelli online nei nuovi però basta rifare una ricarica di 20 euro che noi vendiamo e potete riaccedere ai nuovi temi io spero che sia chiaro insomma stefano cosa occorre per avere questa offerta per avere questa offerta dovete avere semplicemente nel vostro car tablet questa app che si chiama temi se avete questa app potete aderire all'offerta 20 euro temi illimitati per 15 mesi e e